discorsi un po' più familiari, discorsi un po' più intimi, molto più personali, se li racconto scelgo le persone a cui farlo. Hai fatto un casting prima. Hai fatto un bel audition negli anni. Benvenuto a Pasquale De Chiara, Pazzi Fuori, creator, tiktoker napoletano. Benvenuto Pasquale. Grazie mille, ciao Flavia. Grazie mille veramente per l'invito perché è una cosa fighissima, mi è piaciuto tanto. Grazie a te, spero che ti piacerebbe anche la chiacchierata che faremo. No, è sicuro. Allora, raccontaci un pochettino chi sei, dove nasci, che cosa fai, un pochettino la tua storia, il tuo percorso. Ok, ok, in mania seria. Come vuoi. Perfetto. Allora, Pasquale De Chiara, 24 anni, da Napoli, si sente. Napoli-Napoli? No, in realtà no, quindi ecco, anche già iniziamo con gli spoiler, con gli inediti. No, vabbè, provincia di Napoli, vengo da Cerra, che è un paese in provincia proprio di Napoli. Però dico Napoli perché tendenzialmente quando ti sposti nessuno la conosce, quindi per dare un riferimento. Quindi da Napoli o da Cerra e sono a Milano da un paio d'anni perché lo studio, insomma, diciamo che un po' di casistiche mi hanno portato ad essere qui. Io ho fatto un master qui, ci sono rimasto per lavoro e quindi adesso faccio… che faccio? Che fai? Adesso faccio tante cose. Ok. Creator per divertimento e lavoro come commerciale però in un'azienda molto figa e che mi permette appunto di fare sta roba che mi piace tanto appunto di girare, avere a che fare insomma con molte persone. Quindi penso sia questa la chiave vincente adesso del lavoro. Però faccio tante cose, diciamo. Cerco di riempire il tempo perché Milano ti porta a fare tante cose. Di recente ho visto che ti sei scritto anche in palestra. Questa è una cosa che invece non faccio. Questa è un'ambizione ma diciamo che non è tra le cose che faccio perché ti dico soltanto che la tipa della palestra mi ha mandato un messaggio e ha detto guarda ma tu ti sei scritto un mese fa perché non ci sei. Ha detto non lo so. Si è preoccupata. Si è preoccupata che non andassi il beijo. Ha detto no, no, non va alla mia voglia. Però ci sono andato questa settimana, annuncio importante, sto andando in palestra, mi sono scritta anche in piscina, giusto per non farci mancare niente. Noi ti chiamiamo per te. Ma dai, non ci riesco. Quindi poi sei arrivato a Milano da un paio d'anni, dicevi. Sì. Ma Napoli, il rapporto con Napoli penso non si sia mai interrotto. No, no, ma penso e spero che non si interromperà mai perché... Sembra banale ripeterlo, anche perché molto spesso proprio i napoletani con la città tendono a vivere in questo cliché che però è vero, nel senso non è niente di romanzato, forzato. C'è un legame, almeno io parlo in questo caso personalmente, molto molto forte proprio con la città. A parte ovviamente con gli affetti. Certo. Perché quando vai via da un posto a 24 anni... No, io sono andato a... 22. 22, esatto. E comunque avevo costruito tutta una serie di rapporti che continuano. Esattamente, continuano tutt'oggi. Quindi è chiaro che il motivo principale per cui torno è per quello, per la famiglia, per gli affetti, per gli amici. Però proprio si crea un legame con la città che è viscerale. Io non lo so spiegare. Io mi emoziono... Cioè adesso, per esempio, mi emoziona. A me quel posto mi emoziona ed è... Lo preferisco, diciamo così, a tanti altri. E ti dà un sacco di forza, un sacco proprio di cose da vivere, diciamo così. E anche poi quando esci ti rendi conto che ti porti dietro, vuoi o non vuoi... Te lo porti. Te lo porti. Te lo porti in tutto. Cioè è molto identitario, diciamo così. Ti dà un'identità forte. Sono contento. Che poi è quello che, secondo me, conoscendo Napoli, avendo tanti amici di Napoli, come ti dicevo prima, ma essendo anch'io del sud, perché io sono calabrese, quindi sono più terrona... Cerca di mascherarlo, ma in realtà... Fra un po' inizioniamo a parlare in dialettico, sicuramente. Esatto, esatto. A me ci sciogliamo. Però lei è ancora più profondo sud. Assolutamente. Però sì, cioè... Immagino che Napoli sia ancora più forte dai racconti, dalle esperienze di tante persone con cui ho parlato. Però penso sia proprio una cosa di casa tua, del sud. C'è un legame diverso, un'appartenenza diversa. E te lo porti poi dietro, nel bene o nel male. Sì, io vivendo poi qui, avendo a che fare anche poi con tante persone che invece non sono del sud, e quindi entrando un po' nelle loro vite... A Milano, strano che hai trovato persone... Non milanesi, infatti, non milanesi, però diciamo altre zone non sud. Mi sono reso conto anche proprio del diverso legame con la quotidianità. Noi viviamo, secondo me, proprio un rapporto veramente molto intenso, anche con l'idea di casa. Penso che per un ragazzo del sud uscire di casa sia ancora più complicato. Molte volte sei costretto, tra virgolette. Nel senso che, in base alle ambizioni, in base a quello che ti immagini nel futuro, molto spesso ci vuole questa cosa. Bisogna farla, per fortuna o meno. Però ti dico, è difficile andare via da casa giù, perché si vive un contesto molto più... non so, carnale. Da noi si dice carnale. Ed è questo, secondo me, che ci lega poi alla città, oltre al fatto che... Venendo, nel mio caso, da Napoli, non me lo aspettavo, però è così, ti porti dietro dei pregiudizi. In qualsiasi contesto tu vada, al lavorativo o semplicemente all'aperitivo al bar, anche in maniera non sempre... Sai, non con la volontà di fare un'imbettiva o di andare nella polemica, eccetera. Però c'è sempre un riferimento alla città da cui vieni. Qualsiasi... Se dici una parola in un modo diverso... L'accento. Ah, vabbè, quello ormai... Già quando mi presento, come dia Pasquale? Che posso nascondere? Io il primo anno di università sono venuta qui a 19 anni. Non parlavo, non dicevo niente. Stavo ferma, mi dicevano Tu non sei di Milano, vero? Come nessuno. Da cosa l'hai capito, però... No, te lo porti, te lo porti, perché ci sono tanti riferimenti alla città, molto spesso sbagliati. Sono felicissimo in realtà che adesso, pare che da un po' di anni a questa parte il trend si sia invertito. Anzi, adesso si ammira Napoli, tutti quanti che vogliono andarci. Sì, ormai è la moda Napoli. Però sono felice, perché effettivamente sta uscendo una verità che noi che l'abbiamo vissuta la città conosciamo da tempo. Chiaro è che adesso non facciamo i romanzi e quindi diciamo tutto bello, tutta una favola. Assolutamente no, ma come in tutti gli altri posti d'Italia e non solo, sicuramente ci sono delle difficoltà evidenti. Altrimenti non saremo qui a parlare da Milano, ma forse questa intervista l'avremmo girata giù. Quindi è chiaro che quello resta. Però ecco, poi ci sono tante altre cose invece che sono felice, si stiano sdoganando, perché dai... Era ora. Eh dai, basta. Io sono venuto senza orologio perché me l'hanno rubato, come se possiamo dire. A Milano? Capita anche a Milano. Ma non è vero, questa è una cosa che tutti quanti pensano non è vero, cioè non smettiamola. E quali sono i pregiudizi che ti danno più fastidio su Napoli, la tua napolitanità? Allora, uno tra tutti, questa era una battuta, però effettivamente la rivedi tanto, sta roba del associare a qualsiasi esperienza di vita la criminalità. Cioè, in qualsiasi contesto si pensa che Napoli viva di criminalità, viva col terrore, che cosa che in realtà io sto scoprendo molto di più qui. Io ho mai avuto paura di scendere di casa in una sera o di rientrare a casa da solo, insomma. non ho mai vissuto questa situazione, cosa che invece qui ad esempio mi è capitata diverse volte. Sai, non ho la paura, però insomma di guardarmi un po' più... Ci stai attento. Molto, molto. Quindi questa è una cosa che mi dispiace perché non è vero, cioè nel senso io che ci ho vissuto non ho avuto questa impressione, ma anche poi in realtà secondo me anche un po' le competenze anche nell'ambito un po' più professionale ecco l'accento, il dialetto secondo me molto spesso depistano. Cioè capito? Uno che parla in dialetto non sa parlare in italiano non sa niente, esci fuori. Cosa che invece non è vera e oddio, non lo so, sta grande testa. Però diciamo che le cose possono convivere benissimo, anzi io personalmente scelgo di parlare o meno in italiano o in dialetto nel senso è una scelta veramente voluta quindi non penso le cose siano legate ecco. Assolutamente. Tu sui social hai scelto di parlare comunicare in dialetto in napoletano? Sì, sì, perché almeno sui social dal racconto che ho pensato di fare sui social penso che mi appartenga di più il dialetto nel senso riesca a far uscire fuori una parte di me che è più genuina proprio nelle situazioni che racconto che vivo il dialetto secondo me fortifica ancora di più quello che vuole essere dall'ironia che secondo me col dialetto è ancora più accentuata è più forte ma anche proprio una cosa di naturalezza secondo me lo sento più impostato l'italiano ti capisco infatti vedi che tra un po' parte tra un po' io parto poi io parto esce qualcosa ragazzi scusatemi guarda ho sentito un video non mi ricordo di chi di una ragazza calabrese che diceva e sono d'accordo non so se anche tu che in italiano esprimi i concetti e in dialetto le emozioni ah sì assolutamente sì assolutamente sì ci sono delle cose che non possono essere tradotte perché altrimenti si perde l'emozione completamente del racconto quindi sono completamente d'accordo la ragazza tu come hai iniziato sui social e perché magari anche hai iniziato se c'è un perché no ma in realtà penso che la mia storia sui social sia quella più comune ad oggi nel senso che ho sempre fatto cose sui social mi è sempre piaciuto da quando ho scaricato proprio le prime applicazioni non ho mai avuto però la volontà di farlo in maniera seria quindi semplicemente condividevo quello che che mi succedeva quotidianamente infatti niente di importante e cosa che invece viene cambiata dal dall'avvento del covid io prima del covid lavoravo in una anche dopo in realtà in una piscina mentre facevo la la triennale giù a Napoli ok e facevo appunto questo lavoro in piscina ero un istruttore e ovviamente allenavo i bambini i ragazzetti no? i bambini che utilizzavano tutte queste applicazioni sul tiktok quindi nel mio immaginario tiktok che comunque loro mi facevano vedere perché poi si crea un rapporto per cui anche fuori dalla vasca mi facevano vedere questi video dicevo vabbè tiktok lo associavo al ragazzetto che veniva a notare con me aveva 10 anni 13 anni e quindi era era quello ma in realtà durante il covid e all'inizio proprio del covid c'è stato l'espluà il boom e eravamo chiusi in casa quindi ho detto ma io che devo fare tutto il tempo eri da solo in quel periodo no no io ero vivevo a casa con i miei e quindi ho iniziato a raccontare quello che succedeva a casa con i miei in realtà più con mia mamma mio padre c'è questa è una notizia che voglio dare diamola perché se dov'è esiste esiste c'è sempre in realtà in tutti i video soltanto che è molto timido non si vede e quindi non ama in realtà essere ripreso quindi io lo rispetto non lo faccio mai però c'è infatti molto spesso sai che mi hanno anche qui a Milano quando ho cominciato l'università ovviamente non li conoscevo no le persone i miei colleghi universitari sai che a volte me l'hanno detto ma io pensavo che tu non l'avessi tipo alla proclamazione si sono sorpresi sono venuti mamma e papà e le alcune persone hanno detto ma allora ce l'hai io non te l'ho mai chiesto per essere discreta eccetera però io pensavo che tu non l'avessi c'è facciamo questo mito c'è il padre c'è siamo Giovanni ciao babbo ti voglio bene però diciamo che la vera star passano il termine è tua mamma cioè franchitella è lei è lei è la star non del tuo profilo dei tuoi canali ma proprio della napolitanità in generale in questo momento diciamo per quello che voi raccontate sì sì lei incarna io da quello che ho potuto leggere poi ovviamente nel tempo penso proprio che se ogni tanto faccio ancora dei contenuti è proprio perché vedo che è una cosa molto condivisa molti si rivedono nelle situazioni che vivo perché mamma è un po' la mamma tipica napoletana sai vive le stesse cliché le stesse cose ovviamente non di tutti ognuno vive in un certo modo però diciamo che accomuna tanti pensieri e sì è lei la star è lei la star a me fa diverti un sacco è fantastica a me fa proprio ridere ed è per questo in realtà che ho iniziato a condividere i suoi cioè i video insieme perché a parte viviamo tutti e tre quindi quello c'era da pubblicare però a me lei diverte tanto cioè io sono deciso di condividere perché veramente quando registro il video eccetera io mi diverto no ma si vede con lei infatti riesco ad essere ancora secondo me più ironico perché mi fa mi fa proprio ridere e quindi anzi molto a distanza adesso non si riesce e a condividerlo almeno perché ovvio non vivi sempre insieme però però mi fa ridere un sacco e lei si è cioè quando tu hai iniziato a pubblicare video a condividere video il rapporto che avevate e che avete è cambiato nel tempo i social magari e questa condivisione di questo strumento di questi momenti vi hanno ancora di più unito o è rimasto tutto come prima con lei no ma ti dico con lei io ho sempre avuto questo rapporto che traspare cioè nel senso molto intenso e con i social diciamo che sì si è rafforzato ma semplicemente perché adesso ti ripeto un po' meno perché la distanza comunque voi non vuoi non parlo di di intensità di sentimenti assolutamente però parlo proprio di quotidianità è ovvio che si è persa quella cosa lì però con lei c'è sempre stato questo rapporto molto veramente forte però diciamo che con i social si è accentuato lei neanche sapeva in realtà e la faceva nascosto? no no io lo vedeva che a volte registravo vedeva questo telefono però non si immaginava che effettivamente quel video potesse uscire dalle quattro mura di casa o insomma che potesse avere una risonanza fuori se ne accorta quando poi TikTok ha iniziato a mandare virali alcuni dei suoi video perché fin quando le storie io le ho sempre pubblicate anche su Instagram però Instagram è un po' più ristretto come pubblico adesso sta provando insomma con altri strumenti però diciamo che quando pubblichi una storia la vedono le persone a cui tu vuoi farla vedere le persone che ti seguono TikTok invece vive tutta un'altra realtà per cui anzi molto spesso le persone che ti seguono non vedono i video ma è un discorso di algoritmo e quindi lo può vedere chiunque e i primi video sono andati virali e quindi lei si rendeva conto che qualcosa stesse cambiando perché la fermavano per strada ovviamente nella comunità cerrana però no io ho visto che è successo questo mi hai fatto ridere mi hai fatto morire e lei dice ma in che senso lei dice perché mio figlio te l'ha mandato diceva ma perché lo manda a tutti e quindi poi dopo ha capito che in realtà eravamo online fantastica sì 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 però si presta molto nel senso non è no ma si vede la cosa bella è che si vede proprio questo rapporto forte fra voi due ma proprio che vi divertite cioè di complicità forte di divertimento è bellissimo ma lei è veramente simpatica io penso che molte volte anche quando quando ero giù io ho sempre avuto il momento cioè abbiamo sempre avuto anche senza poi dircelo non è che avevamo sai il giorno in cui si è andata a fare una cosa insieme non l'abbiamo mai istituito però diciamo che ci sono alcune cose che abbiamo sempre fatto insieme cioè banalmente a me piaceva se io devo andare al dottore mamma ma io non so non mi ricordo una volta che io mi sia seduto o fare anche la prenotazione medica su quelle cose io non ho mai fatto da adulti si deleghi comunque la mamma ancora oggi in realtà io non vado al dottore da solo e quindi ma anche andare a comprare una cosa che ci serviva in casa dai ti accompagno lo facciamo insieme perché sono proprio dei momenti che non ho mai perso perché mi piacciono cioè nel senso a me piace molto adesso non ti dico proprio sono proprio nostalgico quindi adesso io che scendo tre giorni nel weekend io solo la sera riesco a vedere i miei amici perché tutta la giornata la passo in casa lo dico e ragazzi ci diamo stasera perché io tutta la giornata la devo passare con loro perché beh adesso perché la distanza fa il suo effetto però anche prima diciamo che ho sempre dedicato molto tempo al pranzo insieme la domenica andiamo al pranzo fuori cioè è sempre stata questa cosa poi mai forzata cioè non è la cosa di dobbiamo uscire con la famiglia assolutamente no abbiamo sempre organizzato qualcosina di bello perché spesso si vede invece o si sente da altre storie che non si sta bene diciamo a casa propria per mille motivi diversi ognuno ha la sua storia invece quando c'è un esempio così bello di nello specifico con tua mamma perché è quello che mostri ma immagino anche con gli altri componenti della tua famiglia è bello come esempio e come messaggio che passa dai vostri contenuti sì assolutamente cioè a me anzi dispiace quando questa cosa viene volte travisata nel senso pare almeno da quello che ho potuto leggere sotto qualche commento dai miei video ma in generale un po' dal sentiment che traspare online che quasi debba essere una vergogna e questa cosa quando ho letto la parola vergogna ho detto ma in che senso scusami se una persona perché ci sono delle persone che seguo che mi fanno molto ridere che vivono effettivamente tanto tempo in casa e se apri banalmente uno dei loro video la cosa che leggi è questa non hai vergogna stare a casa con i tuoi genitori dai sei grande trovati questa cosa su cui poi ho riflettuto ma in che senso vergogna dovrebbero essere almeno nel mio caso sono le persone più importanti della mia vita io perché devo avere vergogna di passarci del tempo insieme anzi sapendo che il tempo è limitato io cerco di godermi tutti i secondi che ho a disposizione anzi io molto spesso vivo il discorso inverso del fatto che già prima quando ero a casa ho detto cercavo di vivere tanti momenti con loro però è chiaro che poi tra lavoro l'università le amicizie le relazioni esci tanto io ho iniziato ad oggi proprio in maniera esponenziale a sentire la cosa opposta dire io sto sprecando tanto tempo che invece potrei dedicare a loro non li vedi dopo mesi magari scopri perché poi non te lo dicono che tuo padre è stato dal dottore oppure che è successa una cosa e dici madonna io mi sto perdendo anche questo e quindi io vivo proprio il discorso inverso spero che anche dalla piccolezza del video che pubblico si sciolga un po' questo discorso nel senso è positivo stare a casa assolutamente è positivo vivere scoprire poi i genitori perché poi molte volte non si conoscono scoprire tante come affrontano le cose cioè a me piace molto mi diverte tanto assolutamente anch'io ho scoperto da grande semplicemente perché uno non ha mai chiesto o non ha mai dall'altra parte nessuno ha mai pensato che poteva essere interessante quella parte di vita ho scoperto delle cose divertentissime di loro da giovani o comunque anche della loro vita ed è vero quello che dici tu a volte a me è capitato invece di leggere non commenti o comunque video di persone che denigravano o davano degli spiegati a chi magari il sabato sera preferisce stare a casa o il capodanno lo passa in famiglia come se quella persona non avesse gli amici e che fa figa il gruppo di amici con cui fare la serata figa no a volte è una scelta e almeno per me è la scelta più importante per noi stessi che possiamo fare perché come hai detto tu prima sono le persone più importanti loro ci saranno sempre e prendersi quel tempo per starci insieme ho detto tu lo apprezzi soprattutto quando te ne vai quando sei quando sei distante tantissimo ma in realtà secondo me bisogna semplicemente riuscire a bilanciare le cose è chiaro che una cosa non debba escludere l'altra è ovvio soprattutto in età in cui si scopre il mondo è giusto che lo si faccia quindi viaggi amicizie è importantissimo io vivo dei miei amici nel senso loro lo sanno sono il mio punto debole e comunque quelle cose restano anzi molto spesso è carino unire le due cose cioè io adesso per esempio che sono fuori non sai quante volte i miei amici vanno a casa a pranzo e io sono qui cioè perché si è creata quella situazione per cui gli amici vanno a casa io stesso se incontro i genitori di qualche amico ho un rapporto molto confidenziale perché perché una cosa deve escludere l'altra nel senso è giusto dare il tempo e riservare il tuo tempo alle cose alle persone a cui vuoi bene non capisco perché non integrare anche la famiglia che forse esatto capisco che molto spesso non è facilissimo stare a casa certo ogni situazione ogni situazione quello è un'altra casistica però in maniera generale non mi piaceva questo questa via insomma che si stava prendendo che forse si sta prendendo non lo so però ho letto spesso qual è il rapporto con i commenti appunto prima leggo un po' di commenti come li vivi male io li vivo malissimo sì io li vivo malissimo ma perché io vivo malissimo il giudizio in realtà delle persone e sono contento perché adesso non voglio vai vai sentiti libero rispetto ai contenuti che posto non mi è mai capitato di avere a che fare con critiche vere e proprie però ti dico conoscendomi so che non le gestisco bene quindi sono felice che ancora non sono arrivate non lo fate per favore zero haters per Pasquale oddio no dai no era un invito ah no l'invito è questo adesso adesso diciamo che non ho una diciamo che i contenuti che il pubblico non chiamano molti haters perché alla fine sono molto neutri sono simpatici sì sicuramente ecco come ti dicevo prima tornando al discorso del napoletano quella è forse il commento più comune più comune più frequente sotto i video ah ma non parlate napoletano non parlate in italiano non sapete parlare l'italiano impara queste sono le cose forse più scritte sotto i miei video ma è una cosa che non mi tocca più perché io so che sto parlando italiano la sto scegliendo di fare sei tu stupido che mi stai commentando e stai aumentando ancora di più la viralità del video quindi non è quello il discorso però tendenzialmente ho paura di commenti molto spesso infatti cerco di non espormi su determinate tematiche proprio perché dico faccio il mio nel senso ho deciso di raccontare qualcosa con ironia non voglio entrare poi nelle solite cose dei social che sono bellissimi perché ti danno tantissime opportunità quindi felicissimo che esistano e che li stiamo utilizzando però ti tolgono anche tanto certo e quindi dire sempre la propria nel senso non snaturarsi però ecco evito di fare il video a chiappa haters no? cerco di siamo nel mio nella vita ti esponi nella vita è il contrario nella vita è tutto il contrario io nella vita sono non l'opposto però diciamo che mi espongo tantissimo cioè nel senso nelle situazioni della mia vita non me ne frega poi troppo in realtà di quello che possono pensare gli altri nel senso che dico quello che penso e ad oggi è un punto secondo me a mio favore nel senso che mi ha dato la possibilità poi di conoscere tantissimo le persone che mi hanno circondato che mi circondano ancora e diciamo che non riesco a fingere in generale soprattutto con le persone cioè se sei al mio fianco è perché io ho scelto tu ci sia se non mi sei non mi hai molto a genio sei tranquillo che non ci sediamo nemmeno a tavola cioè non amo quelle cose di circostanza no cerco di evitarle proprio perché non ci trovo il senso ecco diciamo tornando anche al discorso di prima bisogna scegliere le persone con cui riempire il tuo tempo assolutamente e quindi riempilo con le persone a cui magari per cui provi una stima almeno così quindi non ho sotto questo punto di vista non ho troppi filtri ok hai parlato della paura del giudizio in generale che rapporto hai con le tue emozioni con le tue paure con le mie paure no io le vivo le vivo profondamente le vivo profondamente ma in realtà tutto io vivo profondamente tutto e per questo sono tanto sensibile tanto empatico tanto nostalgico perché a me piace in realtà struggermi cioè no ci sguazzi bene nel momento benissimo penso proprio che sia per me importante formativo cioè nel senso quasi essenziale ma anche la gioia mi piace condividere tutto non parlo più adesso dei social della vita privata comunque sono una persona che ama la condivisione per questo forse nasce la volontà di farlo poi sui social perché se mi succede una qualsiasi cosa ci sono c'è una lista di persone che pronto soccorso esatto che devo chiamare che devo raccontare quindi che mi salvano praticamente perché mi ascoltano tantissimo e quindi mi piace tanto però poi mi piace anche vivere a pieno delle cose che siano gioie anzi molto spesso le cose negative le vivo con più profondità la gioia ecco la condividi più facilmente le cose invece più dolorose le vivo in maniera molto intensa molto solipsistica intima diciamo così e le vivo a pieno oltre a viverle che cosa fai tu per prenderti cura un po' delle tue fragilità delle tue paure ma anche delle tue emozioni in generale le guardi le prendi e le guardi nel senso che le riconosci e io ammiro tantissimo le persone che sono non superficiali però diciamo un po' più leggere e io non riesco ad esserlo mai e penso che sia sicuramente un punto dolente alcune volte perché prendi tutto madonna diventa tutto con tanta importanza sì 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 e diventa difficile qualsiasi scelta poi qualsiasi reazione super ponderata super attenta cioè riflettuto magari più rifletti più in realtà vuoi cambiare la possibile reazione quindi non è nemmeno poi troppo autentica perché l'hai pensato così tanto che magari non fai quello che inizialmente hai detto no avrei reagito così quindi molto spesso invidio le persone che ci riescono però penso che sia anche poi l'unico modo che io adesso ho per superarle perché le ho riconosciute le ho sviscerate le ho le ho vissute tutte e quindi sono pronto per metterle da parte quindi penso che sia questo proprio starci dentro perciò ti dicevo che mi piace viverle le cose negative perché nel mio caso fanno un po' da scuola ti insegnano come fare il next step e quindi sì ovviamente cerco aiuto nel senso che non sono grande supereroe e mi racconto tanto con le persone poi di cui ho fiducia cerco di raccontarmi tanto però ti ripeto il dolore vero e proprio che tutti magari una volta nella vita abbiamo provato ma anche non deve essere forza sta grande tragedia mi piace però poi affrontarlo one to one face to face mi fa piacere raccontarlo accolgo i consigli degli altri poi però ci prendiamo un momento e capiamo come come reagire e tu hai detto una cosa molto bella secondo me hai detto io condivido parlo con le persone di quello che provo di quello che sento poi lo affronto da solo però ne parlo e questa è una bella cosa secondo me perché tanti soprattutto tanti ragazzi più giovani hanno paura o del giudizio o comunque di sembrare strani di sembrare pazzi visto che siamo adeguatissimo l'invito perché hanno paura di dire magari penso questo sto vivendo questo sto provando questo invece è bello poter condividere dirlo e vedere che dall'altra parte in realtà magari quella persona l'ha provato pure lui o comunque se non l'ha provato ha provato delle cose simili nella vita quindi non siamo soli come dire nei nostri questo è verissimo però penso anche che sia molto coraggiosa come scelta quindi capisco le persone che magari molto spesso non riescono a farlo perché fidarsi della persona che hai di fronte secondo me è veramente l'atto di coraggio e quindi molto spesso persone che anche io conosco quindi mi trovo super d'accordo con quello che hai detto non riescono a raccontarsi proprio perché non hanno il coraggio di farlo e molto spesso negli altri non sempre si riesce a vedere una figura di riferimento al punto tale di quindi non è non è facilissimo a me ha aiutato tantissimo cioè aiuta tantissimo proprio parlare con gli altri ovviamente non con il mondo anche se anche i social molto spesso ovviamente magari in maniera più implicita celata però ti aiutano tanto tantissimo a me nel mio caso è servito tantissimo proprio il mondo dei social anche per un discorso di autostima di personale più che altro e me non piace sai pavoneggiarmi anzi il contrario sono molto timido però leggere che magari un video che hai pubblicato o il modo in cui affronti le cose perché poi comunque negli anni perché sono anni che pubblico video le persone o almeno quelle che mi seguono da un po' ci sono rese conto della persona poi quindi vedere questo quindi che la persona riesca ad uscire fuori e che viene apprezzata quello mi ha dato tanta forza nel senso che mi ha fatto sentire anche più sicuro non parlo poi di estetica perché lì ti palesti in piscina non c'è niente da fare sei un bellissimo ragazzo però se vai in piscina in palestra ancora di più lì vivo una serie di cose però dico in generale proprio come come persona il fatto che le cose che racconti il modo in cui le vivi i valori che escono fuori perché poi riescono ad uscire fuori quello mi ha dato veramente tanta voglia di continuare a farlo e di continuare ad essere molto autentico ed è per questo forse che i miei social non hanno un format non hanno una rubrica non hanno proprio l'autenticità di una vita raccontata però sì raccontare raccontarsi a me aiuta tantissimo io annoio tantissimo le persone che ho scelto ovviamente e che mi hanno scelto grazie però per me è fondamentale e ti ripeto poi mi piace affrontare tutto da solo però ci deve essere sempre il racconto la condivisione anche per sentire un parere ma non per forza nella profondità poi delle cose banalmente anche una discussione e ho avuto una discussione io ho le persone a cui le racconto racconto le cose anche per raccogliere insomma la loro visione certo e capire effettivamente facciamo un passo indietro oppure dai no però vedi vuol dire che sto vedendo la cosa per quella che è e poi quando sei dentro le cose questo secondo me è importante quando sei dentro non riesci a vedere poi con oggettività la situazione quindi è fondamentale che ci siano delle persone di cui ti fidi e per cui secondo me provi comunque un affetto e una stima nel senso che il loro parere conta che ti dicano guarda secondo me in realtà la cosa potrebbe essere gestita diversamente o insomma l'altra persona non è che ha tutti i torti quindi ti metti in discussione e ti aiutano a farti mettere in discussione perché da soli non sempre si riesce ad avere quella visione cinica no quindi per me è importante proprio parlare con gli altri e ti è mai capitato che nel momento in cui tu ti sei aperto hai condiviso magari con i tuoi amici dall'altra parte invece hai sentito giudizio e qui si ritorna però al discorso delle persone a cui ti racconti nel senso che io odio il giudizio te l'ho detto quindi laddove vedo che ci sono attorno a me persone pronte a giudicare non all'ascolto e io faccio dieci passi indietro quindi è difficile che io mi racconti o che racconto cose che mi importano perché poi è chiaro che nella quotidianità io figura non dico tutto a tutti nel senso non me ne frega niente però ecco discorsi un po' più familiari discorsi un po' più intimi molto più personali se li racconto scelgo le persone a cui farlo hai fatto un casting prima hai fatto un bello audition negli anni e no c'è sicuramente c'è stato adesso non c'è stato molto spesso nemmeno troppo il giudizio nel momento stesso però diciamo che è capitato alcune volte in cui l'atteggiamento poi è cambiato ok o almeno vedevo a seguito di una discussione insomma di qualsiasi di qualsiasi cosa la risposta magari era neutrale però dopo cambiano degli atteggiamenti cambiano delle cose e quindi quello ti insegna almeno nel mio caso mi dà contezza di quelle che poi sono le persone vere di quelle persone di cui ho veramente bisogno e quelle che invece magari di cui posso farne a meno capire di chi puoi fare a meno non è semplice ma anche la forza di fare come hai detto tu qualche passo indietro con queste persone sicuramente aiuta a stare meglio noi perché ci circondiamo invece di persone che ci fanno stare bene sì io amo farlo nel senso che poi in realtà ho tante persone non è che adesso voglio limitarle tante persone però diciamo che mi piace guardare con attenzione in generale le persone che ho di fronte non sempre nei miei riguardi cioè molto spesso io i passi indietro li ho fatti anche vedendo come loro si muovono tra le loro cose e questa è una cosa che io faccio molto tranquillamente e con molta serenità perché mi piace guardare mi piace dare attenzione proprio alle cose che sono che vengono dette mi piace ascoltare mi piace sono una persona molto sensibile quindi quando ho visto valori che non sposano benissimo la mia persona a prescindere se l'hanno fatto meno a me io faccio passi indietro faccio in maniera e aiuta a me ha aiutato tantissimo perché è meglio non avere assolutamente e bisogna fare una scelta io penso che ad oggi ci sia ancora la paura della solitudine molto e quello è peggio perché ti circondi in realtà di persone che non ti danno valore non apprezzano la tua identità e quindi ma meglio uno ma per bene diciamo una persona che ti vuole veramente bene che dieci che magari soffighi quindi ce li hai perché vai a fare cose che fanno tutti ma che non ti riempiono esatto quindi io ho scelto l'uno ma anche perché poi la solitudine fa paura tanta a qualsiasi età io per esempio soprattutto quando ero più piccola ci sono stati tanti momenti in cui mi sentivo sola ma mi sentivo sola in mezzo agli altri che forse la solitudine è più milanese questa è una solitudine poi anche in altri ambiti non per forza solo a Milano o a Milano soprattutto all'inizio io sono arrivata qui che erano avevo 19 anni e ho incontrato tutti i terroni come me quindi si è creato il gruppo però sì ci sono stati dei momenti in cui anche in mezzo agli altri mi sentivo sola quindi sono d'accordo con te perché a volte pur di non sentirci soli ci adeguiamo magari o scendiamo a compromessi con noi stessi per stare in mezzo agli altri ma in realtà poi a volte anche stando in mezzo agli altri ti senti solo quindi tanto vale che solitudine per solitudine almeno rispetti chi sei e rispetti i tuoi valori assolutamente d'accordissimo d'accordissimo penso che questa sia una cosa comunissima in realtà io l'ho provata nel senso quindi super d'accordo anche io forse in fase preadolescenziale o anche adolescenziale cercavo tanto il consenso ma quello penso sia fisologico a quell'età e poi ti dicevo solitudine milanese perché mi è ricapitato qui e perciò nel mio caso l'ho rivissuta qui e nel senso che ricostruire tutto per me è stato difficilissimo e lo è ancora cioè nel senso io sento ancora tantissimo questa difficoltà e qui ho scoperto la solitudine da adulto nel senso da ragazzino ecco abbiamo detto è più facile nel senso se vieni per esempio per studiare è più facile all'università sì sì però nel mio caso è ancora oggi difficile perché proprio per il discorso che stiamo facendo per l'attenzione che io do proprio alle persone che mi sono attorno non è facilissimo ricostruire rifidarsi e trovare poi anche perché secondo me è anche fortuna essere nelle condizioni di trovare io molto spesso penso che in questi anni che sono qui non ero sempre nelle condizioni per accogliere nuove new entry certo e quello poi ti toglie la possibilità di avere delle persone attorno e quindi qui io ho sentito in alcuni momenti la solitudine poi chiaro è che sono salito per iniziare un master quindi la classe c'era adesso lavoro quindi ci sono i colleghi cioè poi sono una persona non troppo introversa diciamo così quindi mi piace la socialità e questo aiuta però poi se devi essere un po' più profondo passando il termine hai tante compagnie però rifidarsi di un amico di un'amicizia di una persona io ho fatto fatica ci sto riuscendo pian piano e anzi ci sono riuscito dai con alcuni ci sono riuscito dai se no mi odiano no anzi mi hanno salvato questi questi anni però anche lì ecco sono pochi le persone poi che se ho un problema qui a Milano chiamo si contano un po' per scelta un po' no quindi ho rivissuto quella cosa lì oh guarda io l'ho rivissuta a Milano ma anche perché io ci sono venuta poi ho fatto l'università ho iniziato a lavorare poi me ne sono andata non sono stata costante e mi rivedo un po' in quello che dici cioè quando ci arrivi ci torni da adulta o ci arrivi o ci torni da adulta e magari per un motivo per un altro devi ripartire da zero da grande fai più fatica a fidarti non tanto a trovare le persone ma come dicevi tu a fidarti e una cosa che a me è capitata non so se anche a te avere la lucidità di riconoscere poi le persone giuste perché a volte magari ci passano anche accanto però per un motivo o per un altro che stiamo vivendo in quel momento non le riconosciamo e come dici tu a volte è difficile ricominciare però piano piano con un po' di impegno nostro un po' di fortuna un po' di impegno anche degli altri perché ci vuole impegno pure degli altri si può fare questo è il messaggio che mi cioè si può fare assolutamente assolutamente si fa è importante che che ci si impegni ecco perché l'impegno deve essere comune e le relazioni serve impegno assolutamente sì e se non si è predisposti bisogna lavorare affinché poi si riescano ad esserlo perché è importante avere dei riferimenti secondo me la solitudine è fighissima ti insegna tantissimo però poi ci sono alcune esperienze che devono essere condivise e alcune situazioni che devono essere vissute e non lo si può fare se non ci si fida degli altri quindi devi imparare a farlo molto spesso anche per il passato delle persone non è sempre facilissimo però con un po' di impegno un po' di lavoro e un po' di attenzione e un po' anche di sapersi lasciare andare i risultati arrivano ecco sono d'accordo senti siamo a pazzi fuori l'abbiamo detto prima ti hanno mai dato del pazzo per qualcosa a me sempre infatti infatti a me ha fatto molto sorridere quando mi hai scritto siamo da pazzi fuori ho detto ecco qua se ne so accorti pure ma siamo pazzi anche dentro e sì tantissimo io mamma mia ma tutti i miei amici in realtà ho delle persone che poi mi conoscono non sta bene non sto bene è vero non sto bene te lo dicono con un'accezione negativa o positiva? no positivamente negativa nel senso che mi hanno accolto e l'hanno accettato però dicono madonna come sei strano io dico è vero ti capita nelle scelte nel modo che hai di vivere cioè per cose ti dicono guarda allora a parte il fatto che io penso di essere la persona più indecisa della terra sarò gemelli molti dicono che è legato al segno al segno madonna io vivo tutto cioè adesso penso una cosa domani voglio un'altra e il giorno dopo mi lamento ma perché ho voluto questa cioè una vita così una vita fatta di ripensamenti dico vabbè non ti annoi almeno madonna ecco ho sempre una cosa a raccontare perché ho sempre sbagliato scelte e quindi sì ma anche io mi rendo conto in realtà è molto spesso di non capire cosa voglio al momento ma in generale sul lavoro su scelte di vita sulle relazioni un giorno ti voglio un giorno non ti voglio e quindi poi quando lo racconti poi dici ma tu non stai tu non stai bene che poi in realtà funziona cioè ho scoperto che questo atteggiamento nei confronti degli altri attira che è la cosa più tossica quindi state fuori state alla larga state alla larga no no ma invece è vero perché banalmente questo atteggiamento attrae però poi molto spesso è complicato e ti ripeto ma in generale io lo vivo su lavoro non so se possiamo parlare del lavoro attenzione possiamo parlare anche su quello io in un anno che ho tre lavori questo è il mio sto iniziando il mio terzo la mia terza esperienza un po' perché mi annoio facilmente quindi cerco sempre la dinamicità quelle cose che qualcosa mi faccia sentire sempre vivo al massimo però è sintomatico proprio di una mia sia secondo me io penso di esserlo poi quindi te lo dici anche tu ogni tanto è ovvio cioè me lo riconosco bisogna essere coscienti di quello che si è ok e ti capita invece di averlo detto pensato rispetto agli altri quello è pazzo è pazza ma più che altro quello che mi piacerebbe capire è rispetto a cosa pensi quello madonna quello è pazzo è pazza sempre in un'accezione positiva del termine beh molto spesso con facilità questo termine anche in maniera giocosa viene utilizzato secondo me quando non ci si rispecchia nelle scelte degli altri quindi non si riesce a mettersi nelle condizioni degli altri quindi molto spesso io penso che sia questo almeno nel mio caso se mi fai questa domanda mi vengono in mente alcune cose personali io ho detto non stai bene sei pazza perché guardavo tanto la mia visione delle cose nel mio modo di vedere non stai bene non è così che ci si comporta poi però quando ti interfacci anche con l'altra persona e magari capita molto spesso no di entrare un po' più nel nel fulcro delle cose c'è un'altra visione molto spesso non condivisa perché poi non sempre si può stare sulla stessa lunghezza non è che l'indagine ti fa allineare però molto spesso almeno capisci quali sono stati i moventi di alcune cose quindi cerchi di giustificarle altre volte no quindi sì io ho conosciuto persone pazze almeno che non allineate cioè vedevamo le cose in maniera diversa è giusto che sia così è giusto che sia così anzi è divertente invece ti è capitato o nel tuo lavoro o hai visto magari delle differenze tra Napoli e Milano perché tu sei di Napoli e oggi vivi a Milano una differenza di atteggiamento magari nei confronti di chi condivide o mostra semplicemente il suo pensiero la sua fragilità il suo momento magari anche di debolezza cioè una differenza di accoglienza diciamo di quelle emozioni sì io l'ho vissuta anche in realtà adesso Milano come polo di attrazione perché alla fine le persone ce lo siamo detti le persone che ci circondano qui a Milano non sono non sono di Milano quindi non voglio generalizzare sulla città perché poi effettivamente sono tutti però ecco le novità di cui abbiamo parlato prima non sempre accolgono le cose nella stessa maniera io penso che proprio la città intesa come il percorso che sta prendendo di proiezione veloce questa cosa di individua cioè c'è molta attenzione all'individuo ognuno pensa sono qui perché come è giusto anche poi che sia perché ognuno è qui per una ragione chi per voglia chi per volontà chi invece per costrizione diciamo così quindi si pensa al percorso individuale e nel mio passato nelle mie cose non era così anzi Napoli è molto accogliente in generale ci si ferma da una mano sempre sempre e sotto tutti i punti di vista io qui ad esempio una cosa molto simpatica io ho frequentato un'università privata qui a Milano perché ho vinto la borsa di studio non perché che me l'hanno finanziata hanno riconosciuto in me il merito madonna pazzi anche loro pazzi fuori perché hanno riconosciuto il merito quindi ho fatto questa università però diciamo che la classe media era formata da persone facoltose e lì con loro io ho capito in realtà che questo è un detto sai di quelle le cose che si sentono spesso però io l'ho vissuto qui che in realtà non sono i soldi a fare signore una persona assolutamente io ho visto delle scene imbarazzanti che mi hanno proprio adesso si dice cringiato sui social voi giovani mi dite cringi è giovanissima possiamo dirlo quasi 34 ehi sei giovanissima però ho visto delle situazioni ecco non c'è la volontà di aiutare l'altro in niente o almeno non sempre è difficile trovare la persona di cuore ecco secondo me la ricchezza di Napoli è il cuore ma delle persone di Napoli è quello poi c'è sempre la casistica attenzione ovvio persone di ognuno poi è fatto in un certo modo però se devo generalizzare il popolo la città riconosco in Napoli il cuore sempre c'è la volontà di aiutarsi di supportarsi abbiamo visto adesso con Sanremo vogliamo parlare di Sanremo potremmo stare qui io sono fan io proprio sono malata di Sanremo e quest'anno ancora di più qualche polemicuccia qualche polemicuccia che se poi riesci a togliere il Sanremo e vedere solo quello che è successo la fotografia di quello che accade tutti i giorni esatto è una comunità che si riunisce e lavora per la causa nel senso diamo supporto alle persone poi è chiaro che Geliere è un fenomeno sotto altri punti di vista che non è solo Napoli che vabbè tutta una serie di non entriamo nel Sanremo però ecco quello secondo me fa capire tanto come si vivono le cose da noi ti diamo una mano almeno io anche con i miei amici abbiamo un rapporto molto più intenso molto più autentico molto più quando vivi determinate situazioni non è che puoi trovare nell'altro no ci sono amico perché mi può dare qualcosa ma che cioè capito siamo tutti quanti lì siamo amici perché siamo scelti perché ci vogliamo bene quindi quella cosa resta qui un po' meno qui c'è molto invece attenzione a cosa mi può dare l'altro io non posso darti niente quindi se mi scegli è per altri motivi ci sarà qualcosa che puoi donare anche tu banalmente secondo me la forza dei rapporti giù è questo il fatto che non si ricerca sempre cosa io posso prendere o almeno di concreto è chiaro che ognuno dagli altri può imparare tantissimo quello è ovvio però secondo me questa è la differenza sostanziale nei miei casi Pasquale tu hai detto che non puoi dare niente in realtà hai dato tanto a questo racconto a questa a questo progetto ti ringrazio fighissimo progetto bellissimo secondo me è molto importante infatti la prima volta che faccio una cosa del genere nel senso proprio che parlo con altre telecamere io molto spesso faccio con la mia però lì te la gestisci in maniera un po' più personale quindi riesci a fare le cose questa è la prima volta però mi ha convinto proprio l'idea che c'è dietro sono super d'accordo con questa iniziativa bellissimo grazie Pasquale è stato un bel viaggio ovviamente i microfoni non ci aiutano non ci aiutano però veramente ti ringrazio perché ci hai raccontato un po' di te che so che tu appunto sui tuoi canali social mostri la tua quotidianità ma meno diciamo le cose più private intime che è giusto che sia così quindi ti ringrazio per aver condiviso ma grazie a te veramente per avermi invitato grazie è andata dai però è passata anche veloce